Terza puntata dedicata alla filosofia del diritto di Hegel. Le prime due erano indirizzate. La prima è una presentazione generale dell'opera, l'ho intitolata Hegel e lo Stato. La seconda si riferiva a quello che ritengo il concetto centrale che attraversa questo testo hegeliano, e cioè la nozione di eticità mostrata nel suo contrapporsi o completarsi con la moralità kantiana. Questa terza puntata è dedicata propriamente all'analisi sociale di Hegel. C'è una parte dell'opera che in effetti investica la società, Hegel la chiama società civile. Cosa intende Hegel con questo termine? Intanto lo capiamo se prendiamo il termine tedesco, il termine tedesco è Bürgerliche Gesellschaft, potremmo anche tradurlo società borghese, e se lo traduciamo in questo modo capiamo un po' meglio a cosa Hegel si riferisce, si riferisce al formarsi, grazie all'azione della borghesia, di quella sfera in qualche misura intermedia tra la sfera strettamente privata, familiare, e la sfera dei rapporti politico-istituzionali, cioè appunto la sfera dello Stato, che nasce, grazie all'incremento degli scambi, grazie al formarsi di una sfera in qualche misura autonoma e dagli imperativi, diciamo così, solidaristici della famiglia e dagli imperativi politici dello Stato, che si forma grazie al costituirsi del mercato, degli scambi economici, del lavoro, ed è in qualche modo il prodotto del capitalismo moderno. Quindi società civile si riferisce fondamentalmente all'analisi hegeliana del capitalismo e delle sue conseguenze all'interno dei rapporti sociali. Dove tratta Hegel della società civile? All'interno della terza parte dell'opera, quella riferita all'eticità, dopo aver trattato la famiglia e prima di trattare dello Stato tratta esattamente di questa sfera di passaggio tra i due, sfera fondamentale. Perché ne tratta all'interno dell'eticità? Perché, come vi ricordavo, eticità dal punto di vista di Hegel non significa semplicemente indicare quello che dobbiamo fare, ma significa indicare le condizioni sociali grazie alle quali noi possiamo diventare autonomi, cioè le condizioni sociali che consentono il formarsi all'interno di ogni individuo di quella autonomia morale grazie alla quale potrà prendere le decisioni corrette. Questo spiega anche il modo in cui io intendo fondamentalmente la filografia del diritto. Molti interpreti la intendono come una sorta di descrizione di come stanno le cose nella famiglia, nella società civile o dello Stato. La filografia del diritto non è un'opera di sociologia, neanche di filografia sociale. La filografia del diritto è un'opera fondamentalmente normativa, intende dire cosa dobbiamo fare. Ciò che non ci dà le prescrizioni, le massime, come avrebbe fatto Kant, ma ci indica le condizioni sociali che consentiranno a noi di prendere le decisioni giuste, moralmente giuste. E dopo aver indagato la famiglia, indaga la società civile. Perché la società civile ha quindi una funzione etica, in questo senso, cioè che serve alla formazione dell'individualità. Cosa era successo nella famiglia? Nella famiglia l'individualità si forma grazie a rapporti interpersonali fondati sull'affetto, sull'amore, quindi sulla solidarietà reciproca. Lì l'individuo viene amato, viene curato, viene preso in carico dagli altri componenti della famiglia per garantirgli il giusto, adeguato sviluppo individuale. Hegel dice che quando l'individuo esce dalla famiglia si trova in un terreno completamente diverso. La società civile non ha nulla di solidaristico, non è regolata da rapporti di affetto. Nella società civile i rapporti sono fondamentalmente rapporti di competizione, di conflitto. In qualche misura si ripresenta dentro la società civile hegeliana quel bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti, di cui aveva parlato Hobbes e che lo stesso Hobbes aveva collocato nella condizione naturale, nello stato di natura. Ecco Hegel dice che quello stato di natura non è un ipotetico stato che sta all'origine della storia dell'umanità, no, è qui presente davanti a noi. È la società che è stata creata dal capitalismo, è la società della competizione, del conflitto, in cui gli individui mettono davanti a tutto quella che Hegel chiama la loro particolarità. Cos'è la particolarità? È un elemento unilaterale della nostra individualità. Noi siamo particolaristici quando diventiamo individualistici, quando mettiamo la nostra individualità davanti a tutti, quando pensiamo che la nostra individualità sia bastevole a se stessa, che non abbia bisogno cioè di rapporti sociali, del rapporto con l'altro, in cui ognuno pensa di potersi fare da solo. Questi sono gli ideali che attraversano in qualche misura le idee fondamentali che attraversano la società civile. Ecco, quando l'individuo si trova lì di fronte, in questa competizione di tutti contro tutti, ecco, l'individuo è messo di fronte a un nuovo lato della libertà, appunto questo lato particolaristico, in cui la libertà significa autonomia non grazie all'altro, famiglia, e poi la ritroveremo nello Stato, ma autonomia di contro all'altro. Non è la vera libertà, ma è un lato fondamentale della libertà, perché dice Hegel la libertà altrimenti rimarrebbe astratta. Per diventare concreta deve farsi bisogno e la società civile è lo Stato del bisogno, è esattamente il sistema dei bisogni, come lo chiama Hegel. Sono venti paragrafi, una ventina di paragrafi, che colloca all'inizio della trattazione dedicata alla società civile, le altre due parti saranno l'una dedicata all'amministrazione della giustizia e l'altra, parte finale, alle istituzioni in qualche misura etiche della società civile, cioè quelle che nella società tedesca d'inizio 1800 erano la polizia, quella specie di piccolo welfare sociale che chiama appunto polizia e poi la corporazione degli artigiani e dei lavoratori. Io mi soffermerò soprattutto sulla prima parte, sui primi paragrafi dedicati alla società civile, quelli appunto dedicati al sistema dei bisogni, oltre ai paragrafi iniziali che illustrano l'intero complesso della società civile. Allora dicevamo, la società civile ha una funzione etica perché ci insegna la libertà individualistica, la libertà particolare e l'individuo deve formarsi anche questo, deve capire quali sono i suoi bisogni, le sue condizioni materiali in cui si realizza la sua libertà. Ma c'è un altro aspetto che è fondamentale per la formazione dell'individuo, perché dire che la società civile è il sistema dei bisogni significa anche indicare che questi bisogni devono essere soddisfatti e il modo per soddisfarli all'interno della società civile moderna è il lavoro. E il lavoro ha per Hegel una funzione etica, nel senso specifico hegeliano, non nel senso che ci sia un'etica del lavoro. Ha una funzione etica perché il lavoro serve a formare l'individuo. Lo educa. A che cosa lo educa? Lo edica innanzitutto a rinviare il desiderio. Per lavorare bisogna non consumare immediatamente il prodotto, ma attendere che il prodotto sia finito. I tempi per esempio dell'agricoltura sono lenti prima di avere il prodotto, ma anche i tempi della produzione industriale, della produzione artigiana. Insomma, il lavoro frena il desiderio e quindi è una componente fondamentale grazie alla quale l'individuo riesce a disciplinare la propria libertà arbitraria, la propria libertà naturale, il grande avversario dell'autonomia kantiana. Noi non siamo autonomi quando facciamo quello che ci dice il nostro istinto, siamo autonomi quando governiamo con la ragione. Ma in che modo è che possiamo imparare a governare con la ragione? Ecco, il lavoro è uno di questi strumenti. E quindi ecco le due componenti. L'educazione, diciamo così, all'individualità e, in secondo lato, il lavoro come formazione dell'individuo. Luogo in cui l'individuo riesce a governare quella medesima particolarità, che altrimenti, come dire, esploderebbe, sarebbe la pura esplosione del bisogno, che il bisogno deve essere governato, deve essere regolamentato. Quindi la società civile educa la libertà individuale ma al tempo stesso la corregge. Però dobbiamo tenere presente una terza componente, che è altrettanto fondamentale per la formazione dell'individuo. Perché l'individuo è sì vero che nella società civile vede solo se stesso, i propri bisogni, la propria individualità, ma per farlo deve entrare in rapporto con gli altri. Non solo per soddisfare il bisogno ha necessità che gli altri gli diano i prodotti del loro lavoro, ma lui stesso per lavorare ha bisogno del lavoro degli altri. Insomma, nella società civile l'individuo incontra la socialità, nonostante non la voglia, nonostante veda solo se stesso, ma deve necessariamente entrare con l'altro. Queste sono le due componenti che mette in luce nel primissimo paragrafo dedicato alla società civile, il paragrafo 182, in cui dice che la società civile ha due principi. Il primo è quello della particolarità, l'abbiamo già visto, è quando l'individuo vede solo se stesso come unico fine, la persona particolare che ha se stessa fine, dice Hegel, e che è pura libertà naturale, pura mescolanza di necessità naturale di arbitrio. L'altro principio è la socialità, perché la persona è costretta a entrare in rapporto con gli altri, sia per soddisfare i bisogni, sia per lavorare. Insomma, queste due componenti sono le componenti fondamentali della società. Dunque, sembra che la società civile, in questa, diciamo così, dimensione con l'individuo e se stesso e anche sociale, riesca pienamente a formare l'individuo nella sua autonomia. In realtà, qui cominciano i problemi. E qui avvertiamo la prima delle critiche che la rivolge all'incipiente capitalismo. Perché quando l'individuo entra in rapporto con gli altri, in realtà questo rapporto che istituisce con gli altri non è un rapporto voluto. Lui vede solo se stesso. Quindi certamente l'individualità si media, come dice Hegel, con la universalità, cioè con la intersoggettività e con la socialità. Ma questa mediazione con l'universalità è una mediazione inconsaputa, inconsapevole, non voluta. Insomma, l'insieme delle relazioni sociali non è governato dagli individui. Nonostante gli individui non lo vogliano, entrano in rapporti e sono governati da questi rapporti. È come se l'individuo entrasse in relazione con gli altri spinto solo dalla necessità. Anzi Hegel lo dice in maniera esplicita. È la necessità che governa questi rapporti individuali, non la libertà. Vedete? Qui c'è l'educazione e la libertà che però subito si trasforma, si capovolgi in necessità. Noi siamo necessitati da altro. Dice Hegel, non è come libertà, il parrafo 186 qui, non è come libertà, bensì come necessità che il particolare si innalza fino all'universale. Quindi non è la nostra libertà che lo sceglie, ma siamo spinti, inconsapevolmente costretti. La relazione, perciò dice Hegel, è soltanto una catena e l'individuo particolare è solo un anello di questa catena, l'anello della catena di questa connessione. Insomma, l'individuo è inserito nella dimensione universale, ma questa universalità gli sfugge. Non è in grado di governarla. Qui c'è un'anticipazione della critica marxiana alla divisione del lavoro. Gli individui sono governati dalla divisione del lavoro, la divisione del lavoro si impone su di loro senza che loro vedano questa generale connessione in cui sono immersi, vedono solo i prodotti, vedono le merci e non vedono la socialità che li governa. Marx, nel Capitale, dirà che questo è esattamente la reificazione. La reificazione è vedere la merce e non vedere e governare la generale organizzazione del lavoro che sta dietro alla produzione delle merci. Il motivo per cui l'individuo è spinto a questa non voluta collaborazione con gli altri è il fatto che l'individuo nella società civile moderna non è bastevole a se stesso, non è onnilaterale, non sa produrre tutto ciò che gli serve per la soddisfazione dei propri bisogni e quindi è costretto a ricorrere agli altri, ai prodotti degli altri, al lavoro degli altri. Ma in questo modo il suo lavoro diventa un lavoro totalmente astratto. Ecco la grande critica hegeliana. Il lavoro che dovrebbe essere ciò che forma propriamente l'individuo, che lo educa a diventare realmente autonomo, diventa astratto e quindi invece che educare l'individuo lo diseduca. Perché il lavoro diventa semplice, dice Hegel, diventa il lavoro del singolo grazie alla divisione divenne più semplice. Cosa vuol dire questa accusa di semplicità? Vuol dire che la semplicità indica il fatto che il lavoratore sa fare solo quella cosa e fa solo quella cosa in continuazione. Diventa uniforme, meccanico, parcellizzato, ripetitivo a tal punto, dice Hegel, che l'uomo potrebbe addirittura ritrarsene e lasciar fare questo lavoro alle macchine. Ecco già qui c'è l'anticipazione del macchinismo che sarà tema marxiano. Il lavoro perciò diventa astratto. Questa è la grande critica hegeliana alla condizione del lavoro nella società capitalistica, l'astrazione del lavoro. Ma astratto diventa non solo il lavoro del singolo, diventa anche la relazione fra gli individui. Perché le relazioni fra gli individui sono regolate esattamente da questo medesimo meccanismo. Gli individui si rapportano l'uno all'altro esattamente come si rapporterebbero delle macchine, uniformati dai loro lavori parcellizzati. Scrive Hegel, l'astrazione che diviene una qualità dei bisogni e dei mezzi, cioè i bisogni, vedremo più avanti, diventano astratti, e diventano astratti i mezzi, cioè i lavori che gli individui devono fare per poter soddisfare i loro bisogni. Bene. Questa astrazione diviene anche una determinazione, cioè diventa una qualità, una caratteristica della relazione reciproca fra gli individui. Cioè l'astrazione, che sarebbe una cosa puramente mentale, puramente logico, astratta, intellettuale, diventa concreta. L'astratto diventa concreto, cioè diventa sociale. Qui c'è l'anticipazione del grande tema, che sarà poi tema di Marx, che Marx chiamerà astrazione reale. Cioè l'astratto nella società capitalistica non è semplicemente una proprietà della nostra testa. L'astratto diventa la qualità dei rapporti sociali. L'astratto si cala nel mondo, si incarna e diventa ciò che regola la nostra umanità, ovviamente disumanizzandola. Infatti Hegel dice questi bisogni diventano concreti quando diventano bisogni sociali. Ma allo stesso modo anche i bisogni diventano astratti. Dunque, astrazione del lavoro, delle relazioni fra gli individui che diventano relazioni meccaniche, e in terzo luogo astrazione dei bisogni. Cioè qui c'è una sorta di critica hegeliana della stessa società dei consumi, una sorta di anticipazione della critica del consumismo. Dice Hegel che i bisogni in questa società civile si moltiplicano, si differenziano l'uno dall'altro, dice scomposizione e differenziazione del bisogno in singole parti e lati che diventano diversi bisogni particolarizzati, quindi più astratti. Siamo al paratro 190 qui. Cioè i bisogni diventano fittizi, diventano bisogni artificiali. Hegel parla del raffinamento, cioè del fatto che noi a un certo punto in questa società troviamo dei bisogni in cui in natura non sentiremo minimamente l'esigenza, ma è la società civile a imporci questi bisogni, a creare nuovi bisogni e nuovi desideri, e quindi a moltiplicare la produzione, i bisogni e i prodotti. Quindi il bisogno qui si sgancia dalla necessità naturale, dice la distinzione fra bisogno naturale e bisogno legato alla civiltà non ha più limiti, cioè non c'è più, non si capisce più quale sia veramente quello di cui abbiamo bisogno e di quello che invece è costruito da questa medesima società. E quindi dice questa distinzione che cade, genera, dice, il lusso. Hegel parla del bisogno della particolarità, no? E qui la critica proprio specifica, il desiderio di distinguersi dagli altri, il raffinamento, il desiderio di distinguersi dagli altri attraverso la soddisfazione di nuovi bisogni. Io mi distingo se riesco a avere nuovi bisogni e nuovi prodotti, quindi nuove merci. E quindi il bisogno, dice Hegel, diventa arbitrario. Ecco, di nuovo, l'arbitrio. Quello a cui la società civile doveva porre rimedio, no? La società civile doveva governare l'arbitrio, fare in modo che l'arbitrio diventasse vera autonomia, ci impone invece il bisogno arbitrario, no? Hegel lo chiama anche il bisogno spirituale della rappresentazione, termine rappresentazione in Hegel ha sempre un significato negativo, non è il concetto, no? La rappresentazione è qualcosa che appunto è astratto intellettuale, bisogno diventa questo. Quindi si supera la mera naturalità del bisogno. La società civile crea bisogni nuovi e artificiali. E questa moltiplicazione dei bisogni genera uniformazione. Cioè bisogno, dice, di questa uguaglianza, di rendersi uguali, no? Io voglio lo stesso prodotto che ha quello. Qui c'è l'anticipazione della grande questione del mimetismo di René Girard, no? In cui io, come dire, imito l'altro perché desidero ciò che l'altro desidera, no? E si ripete all'individuo, si moltiplica e si ripete all'infinito questa cosa. E qui Hegel introduce un nuovo tema, mutuato dalla economia politica di Smith e di Riccardo, che lui aveva letto negli anni precedenti. I principi di economia politica di Riccardo erano usciti nel 1817, esattamente qualche anno prima che pubblicasse la filofilia del diritto, ma Hegel l'aveva già letta. Hegel dice che cosa produce questa uniformazione dei bisogni, questa uniformazione dei beni? Si via che le cose, cioè i prodotti di cui abbiamo bisogno, le cose diventano tutte uguali, diventano comparabili tra loro, per scambiare devono essere comparabili. E perciò è necessario che nella società civile la qualità dei prodotti si trasformi in quantità. Ecco, altra anticipazione, già di direzione marxiana tra valore d'uso e valore di scambio, in modo tale che sia i bisogni che i beni diventino comparabili con altri bisogni. E questa universalità quantitativa è chiamata da Hegel, siamo nella parola 63 qui, quindi nella parte dedicata al diritto astratto. Questa universalità quantitativa per cui tutto è uguale all'altro è chiamata da Hegel il valore della cosa. Il tema del valore era stato introdotto ovviamente dagli economisti classici. Dice poi Hegel, sempre in questo parola 63, questo valore era sconosciuto nella società feudale, perché il tratto distintivo della società feudale non era il valore, era l'uso. Qui l'uso viene sostituito con il valore, perché i beni devono essere scambiati universalmente. Allora questa tendenza a uniformare i bisogni, a renderli quantitativi, a meccanizzare il lavoro, invece che realizzare, come potrebbe essere da un certo punto di vista, il benessere universale, che a un certo punto Hegel ricorda, perché a un certo punto Hegel ricorda il tema dell'economia politica classica in cui ognuno lavora per sé, lavora per il proprio interesse, ma lavorando per il proprio interesse fa il benessere di tutti. Ecco, questa che doveva essere l'idea dell'economia politica classica, cioè che si realizzava appunto il benessere universale, questa cosa qui non si realizza per niente. Invece che realizzare il benessere universale, quel benessere che è appunto teorizzato dall'economia politica, genera profonde disuguaglianza. Il cosiddetto patrimonio generale, come lo chiama qui Hegel, si rivela, cioè quello che viene prodotto, il prodotto interno lordo lo chiameremo noi, cioè quello che viene prodotto annualmente all'interno della società. Il patrimonio generale si rivela disuguaglianza del patrimonio. La ripartizione di questo patrimonio non è uguale, è disuguale. disuguaglianza del patrimonio e disuguaglianza delle attitudini degli individui. E qui Hegel introduce esattamente la parola capitale, non usa mai la parola capitalismo, ma è introdotta la parola capitale, che è esattamente qui. Realizzarsi disuguale di questo patrimonio universale. Si tratta, dice Hegel, di una disuguaglianza prodotta. Cioè non è una disuguaglianza naturale, esisteva una disuguaglianza naturale. Gli individui entrano nella società civile partendo da condizioni naturali diverse, perché hanno attitudini, capacità, condizioni sociali diverse. Quindi entrano disuguali. A questa disuguaglianza di base si aggiunge la disuguaglianza prodotta dalla società civile. La chiama disuguaglianza prodotta dallo spirito. Cioè non qualcosa di meramente naturale, dal modo in cui si realizzano esattamente queste relazioni sociali. Queste relazioni quindi storico-sociali, invece che togliere, dice Hegel, siamo una nota al paragrafo 200. Invece che togliere l'ineguaglianza degli uomini posta dalla natura, perché lo spirito avrebbe la capacità di accogliere individui diversi, di renderli in qualche modo uguali attraverso questa presunta uguaglianza delle merci e uguaglianza dei bisogni e uniformazione degli individui. Invece che togliere questa disuguaglianza, queste condizioni storico-sociali la riproducono e la innalzano, dice, a una ineguaglianza, stiamo attenti alle parole che Hegel usa, ineguaglianza dell'attitudine del patrimonio. Attitudine vuol dire che gli stessi individui diventano disuguali nelle loro capacità, le loro stesse capacità vengono trasformate, deformate dalla relazione sociale in modo da renderli ancora più diversi. Ineguaglianza dell'attitudine, del patrimonio, quindi del reddito, e perfino, ecco il punto, perfino della formazione intellettuale e morale. Ecco gli elementi di moralità e di eticità presenti, ben presenti a Hegel, perché la disuguaglianza non genera semplicemente una disuguaglianza di reddito, una disuguaglianza di condizione sociale, genera una disuguaglianza morale. Gli individui vengono abbruttiti quando le condizioni della loro vita, della loro esistenza, del loro lavoro li abbruttiscono. L'ineguaglianza economica produce degrado morale e degrado intellettuale. E non c'è modo per ovviare a questa situazione. E dice Hegel che sarebbe solo un mero dover essere. Ecco qui di nuovo la critica al dover essere che Hegel continuamente è presente in quest'opera. E ciò getta luce su quei paragrafi conclusivi dedicati alla società civile. Siamo della terza parte della società civile, cioè quella in cui vengono illustrate questi correttivi che la società tedesca di inizio ottocento intendeva in qualche modo introdurre. Questi correttivi che potevano in qualche modo attutire le disuguaglianze, renderlo meno severi. Una appunto era quella che Hegel chiama polizia, che non ha semplicemente compiti repressivi, ma anche compiti di welfare, di distribuzione dei beni a chi per esempio non ha il minimo materiale per poter sopravvivere. E la corporazione, che sono queste associazioni di origine medievale ovviamente che erano ancora presenti nella società tedesca all'inizio ottocento e che Hegel ricupera in quest'opera, in cui i lavoratori si mettono insieme per elementi di solidarietà comune. Bene, ecco in queste ultime pagine, in questi paragrafi conclusivi, Hegel rileva esattamente questo. Hegel rileva da un lato quella che lui chiama l'accumulazione delle ricchezze, paragrafo 243. Cioè la concentrazione, dice, in poche mani di ricchezze sproporzionate, paragrafo 244. Dall'altro lato, cioè qui lato puramente economico, sperequazione economica, disuguaglianza economica, disuguaglianza di reddito e di patrimonio. Ma dall'altro lato, il decadere, dice, di una grande massa al di sotto della misura di un certo modo di sussistenza, quella che lui chiamerà la plebe. E cioè la formazione esattamente del proletariato industriale, che è quello che viene analizzato, poi sarà analizzato in maniera ben più dettagliata da Marx nelle opere da lui dedicate al problema. E anche qui, dice, questa condizione, questa formazione di una grande massa, produce perdita del sentimento del diritto. Ecco, condizioni sociali che generano conseguenze morali. Perdita del sentimento del diritto, del sentimento della rettitudine, dice, e dell'onore di sussistere mediante la propria attività del lavoro. E quando appunto il lavoro è disonorevole, anche la persona diventa in qualche modo dai propri occhi disonorevole. Vediamo allora di trarre una conclusione di tutta questa indagine hegeliana. Fondamentalmente, abbiamo visto, sono tre critiche. La critica alla divisione del lavoro, all'astrazione, la critica ai bisogni che diventano bisogni artificiali, e poi la critica alle disuguaglianze. Queste sono le tre critiche fondamentali che gli arrivo. Ma non ci sono soluzioni per Hegel. Hegel non offre una soluzione effettiva a tutti questi problemi. Anche se nella parte finale, come già vi avevo anticipato, Hegel analizza queste istituzioni che dovrebbero in qualche modo attutire le conseguenze di questa disuguaglianza, appunto, la polizia e la corporazione. Le istituzioni della polizia urbana, le istituzioni delle corporazioni di lavoratori possono, come dire, alleviare, ma non risolvono il problema dell'astrazione del lavoro, dell'astrazione dei bisogni, delle disuguaglianze sociali profonde. La particolarità, ecco il punto, il grande tema della società civile, la particolarità, il fatto che la particolarità non venga alla fine superata, resta insuperata in questo contesto sociale. E lo Stato, direte voi, di cui poi Hegel tratterà nella terza parte, non interviene minimamente su queste questioni. Lo Stato è per Hegel il luogo in cui si realizza la libertà politica, ma lo Stato non ha nessuna funzione di intervento sulla società. Manca in Hegel l'idea di welfare state, cioè dello Stato che intervenga su queste disuguaglianze le elimini. È come se la libertà della società civile fosse in qualche modo lasciata all'arbitro della società civile e poi acquisiamo una libertà superiore che è la libertà dello Stato. Lo Stato non interviene su tale questione. Allora, che conclusioni possiamo trarre di questa critica Hegeliana al capitalismo? Diciamo che è una critica al capitalismo senza soluzione dei suoi problemi. Non c'è conciliazione. Ecco, contrariamente a quello che si pensa che Hegel avrebbe appunto conciliato tutto, qui non ci concilia proprio nulla. Non c'è conciliazione del problema della plebe, che resta fondamentalmente irrisolto. Un lato di opacità che non riceve nessuna chiarezza in grado di illuminarlo, in grado di risolverlo. A dispetto dunque della vulgata, secondo cui in Hegel tutto si concilia. No, la storia resta inconciliata. E qui non è la storia del passato, qui è la storia della modernità che lui vede appunto davanti ai propri occhi. Insomma, il tratto fondamentale dell'analisi Hegeliana del mondo del lavoro è quindi quello di una tensione irrisolta, potremmo chiamarla così, fra queste potenzialità emancipanti che sono presenti nel lavoro. Abbiamo visto, no? Il lavoro come educazione alla propria individualità, come luogo in cui l'individuo può fondamentalmente trovare la dignità di se stesso, riconoscere se stesso nei propri prodotti, tema che già era stato affrontato da Hegel nella fenomenologia dello spirito, nei paragrafi dedicati appunto al lavoro del servo, che riconosce se stesso nei prodotti del lavoro. Da un lato c'è questa potenzialità emancipante, vede, ma questa visione del lavoro emancipante resta in qualche misura, potremmo quasi dire, una visione utopistica. È un lavoro ideale, quello l'indicato da Hegel, che non è quello che si realizza concretamente nella società civile. Questa potenzialità emancipante è presente, c'è nel lavoro questa potenzialità, viene represso dalle condizioni in cui questo si realizza all'interno della società civile, borghese, moderna. Questa è una realtà degradante e a questa realtà degradante non c'è soluzione possibile. Il che riflette, a mio parere, quella che è l'intera, la complessiva indagine hegeliana sulla modernità, che è intrinsecamente ambivalente, intrinsecamente ambigua. Emancipazione da un lato e astrazione dall'altro. Diciamo che nelle pagne dedicate alla società civile si mostra plasticamente questa doppia faccia della modernità.